Ciao a tutti! Presto sarà Natale e qualcuno si starà chiedendo quali regali riceverà da ExeFood. Mio caro amico, vedo che ultimamente ti sei impegnato per essere meritevole di sconto. Penso proprio che ti consegneremo un regalo che ti piacerà tantissimo. Ma non voglio rominarti la sorpresa. Presto lo scoprirai tu stesso. Stiamo arrivando! Ricordate di essere buoni! Ciao, ciao! Buon Natale da ExeFood!